Noi stasera non ci siamo presentati, ingiustificati. È stata una brutta serata, non salvo nessuno, pochissime cose da questa partita. Ho detto ai ragazzi, spero che questo sia un insegnamento per quello che sarà il prossimo mese di maggio, quindi da qui dobbiamo ripartire. Ci può stare perché è l'episodio negativo dell'anno, tutto sommato abbiamo sempre lottato in tutte le nostre sconfitte, oggi siamo usciti dalla partita troppo presto. Merito sicuramente degli avversari, anche della qualità degli avversari, perché questa è una squadra secondo me di buonissimo livello, è una squadra che una volta che entrerà nei play-off darà fastidio a chiunque, per la qualità dei giocatori che ha, lo staff e tutto. Quindi complimenti a loro, noi questa sera siamo stati, c'è poco da dire, ci sono due aspetti dove abbiamo subito, soprattutto nella prima parte, dove poi anche la partita si è aperta, in contropiede, lì loro sono stati bravissimi, è una cosa che noi abbiamo pagato per il nostro ritmo di oggi, noi non siamo da questo ritmo, per questo ritmo sono stati bravi in parte di avversari, ma noi di errori ne abbiamo commessi abbastanza e i 56 punti sono anche frutto del nostro ritmo, quindi spero che si apra, chiudiamo questa parentesi con questa gara e ripartiamo la domenica, abbiamo l'obbligo ovviamente a questo punto di vista, anche i risultati dobbiamo arrivare primi, quindi è importante per le prossime due carri.